Friofa è tutto, io sono Octi di Pura Fibra Italiana e vi auguro buon anno 2018 perché questo è il primo video a parte la live di Zoo che viene fatta proprio in questo momento ed è di Fortnite tra l'altro, quindi magari quest'anno partiremo così, anche la sua live è di Fortnite quindi probabilmente per ora partiremo un sacco quindi vi auguro buone festività, adesso godetevi gli ultimi giorni di vacanza come stiamo facendo noi, ci stiamo divertendo un sacco e insomma perché ci sono comunque i compiti da fare, che schifo ma a parte questo direi di andare subito al video Immagino che tutti voi amiate giocare a Fortnite e lo penso proprio se siete in questo video ma sicuramente pochi di voi sapranno che ci sono cose in Fortnite che non vanno assolutamente mai fatte perché vi potrebbero portare ad un ban addirittura permanente alcune vi sembreranno ovvie, certo alcune sono veramente stupide ma altre non ve lo sareste mai aspettato ma prima di tutto chi di voi vuole V-Bucks? infatti in alcuni prossimi video di Fortnite faremo dei contest per regalare 3000 V-Bucks a voi le cose da fare sono veramente semplici, basta iscriversi al canale mettendo la campanella attiva, lasciare like a questo video e commentare con vorrei V-Bucks per piacere perché l'educazione è prima di tutto se verrete estratti vi risponderemo nei commenti e le estrazioni potete vederle in diretta sia sulla nostra pagina Telegram hashtag purofibraitaliana sia sulla nostra pagina Instagram di cui ora non mi ricordo il nome quindi ve lo lascio in sovraimpressione e ora senza perdere altro tempo direi di andare subito al dunque e iniziare con le 5 cose che potrebbero farti bannare da Fortnite infatti questo penso sia tra le più ovvie di tutte però è bene spiegare come funziona esattamente questa cosa di tanto in tanto può capitare di beccare dei compagni di squadra un po' egoisti, un po' lazzaroni o che si rubano tutte le nostre risorse preziose quando uccidiamo noi un nemico e loro loro corrono subito lì a prendersi tutto e ci viene voglia di ucciderli ma è sbagliato e attenzione perché potreste essere bannati spieghiamo meglio questa cosa Fortnite non punisce il buttare a terra i propri compagni infatti può capitare che nel bel mezzo della lotta un compagno ci passi davanti o che magari con qualche granata lo buttiamo a terra soprattutto nella nuova modeltà quella piena di esplosioni e tutto il resto quindi può capitare di buttare giù un nostro amico e questo infatti non viene punito tuttavia se una volta che il nostro compagno è a terra e noi lo uccidiamo del tutto rischiamo il bann permanente cosa che è successo ad uno youtuber americano abbastanza famoso nell'ambito di Fortnite che è stato bannato in seguito all'uccidere due compagni di team All right, that echo's killing me, man. I don't like hearing my frickin' voice Alex is being nice because he's 11? Hell yeah, man. Wait, 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 wait I told you I needed a weapon All right, I'll take all the weapons for myself. Hold on Don't worry, guys. I told him I needed a frickin' rifle. He didn't want to give me anything Bro, I just killed an 11 year old, bro. I'm gonna get banned Quindi, la prossima volta che volete vendicarvi del vostro amico che vi ha rubato lo scaracca oro pensateci ben due volte Il teaming Il teaming è il fare gruppo con persone che non sono in squadra con te in quella determinata modalità Se siete da soli e fate gruppo in qualche modo con un altro giocatore sarebbe scorretto perché voi sareste in due e i nemici sono in uno Giustamente, questa cosa viene punita da Fortnite con un bel ban permanente Ed è successo a un youtuber molto famoso in America chiamato Zuccubus Bandito durante uno stream per aver fatto teaming Ma purtroppo per Fortnite il suo concetto di teaming è dispersivo Infatti, ora vedremo la clip dove è stato bandito e vediamo subito dopo la clip del perché è stato bandito Oh What Semplicemente l'altro giocatore gli ha sparato vicino e poi si è allontanato E lui ha fatto lo stesso, poteva sparare a lui ma invece lo ha evitato E di fatto è una forma di non violenza non ammessa in un gioco come Fortnite Quindi la morale è fate fuori i vostri nemici senza pietà vorrete banditi Usare i trucchi Chiaramente questo era palese Ci sono vari tipi di trucchi ma il più utilizzato è l'imebot O il fly L'imebot ti permette di sparare, uccidere con un colpo o comunque di mirare con la massima precisione al nemico Invece il fly permette di volare Ovviamente però quest'ultimo è poco utilizzato perché si noterebbe subito Perciò è più facile nascondersi dietro un aimbot L'imebot è chiaramente scorretto perché quando due persone si incontrano Quello che usa i trucchi è l'imebot vincerà al 100% quella battaglia Qui una clip di un tipo che usando l'imebot fa fuori tutti i nemici con giusto un colpo Just killed 2 guys and 3 hits and 3 shots Dude, come come we're not this good? Yeah? This guy probably practices a lot Now that I think about it, I remember dying nasty because the dude had a pistol I glitches I glitches Per quelli di voi che non sanno cosa siano i glitches Sono errori del gioco che, venendo sfruttati, possono portare un vantaggio al giocatore Sono molto differenti dai bug che invece sono errori che impediscono il proseguimento del gioco O che causano disguidi ai player In Fortnite utilizzare questi glitches è proibito perché permetterebbe di entrare in un muri o in posti dove non dovreste stare normalmente E vi permette di avere un vantaggio giustamente sugli altri Solitamente i glitches vengono corretti in fretta Ma se così non fosse e voi li sfruttate, occhio, perché potreste essere banditi Ecco una clip dove uno youtuber mostra come entrare dentro il terreno e sparare a tutti senza mai essere presi As you can see, the place I've marked is right there in the blue What you want to do is just run up here Jump inside your little shack Close your door Start beating down your floor And as you can see, I've just dropped down another level Now what you're going to do is just take out these walls And voila, you're under there But before you do that, make sure you pull out your floor Get some stone, lay it in so it's not as sus if anybody walks in And there we have it We are under the ground and nobody knows about us There's a couple of spots you can shoot out Like you can shoot out all this open part here Just like guess where the little red dot comes up you can't shoot But all this you can shoot out Nobody can see where you are You're hidden And there's one more little secret spot I want to show you guys If somebody does make it down to this level All you have to do is just walk into this wall here And you're invisible Nobody can see through this wall Unless you're with a teammate and they can see your name But you're pretty safe under here And you'll get the advantage to look behind you as well And have a little look around here Chiaramente è scorretto e non so se questa cosa sia stata fixata o no Ma se non fosse stata fidatevi, non fatelo Rischiate solo di perdere il vostro account Le altalene Questa cosa non ci volevo credere È incredibile Ma doveva essere in questa posizione Perché è la cosa più strana che esista C'è veramente la cosa più stupida e inaspettata su questa lista Le altalene che possiamo trovare nei vari mondi di Fortnite Ci possono portare al ban Nonostante esse siano parte integrante della mappa e del gioco Infatti è per questo che non hanno senso E sicuramente vi starete chiedendo Perché? Cosa possono fare queste altalene per farci bannare? Perché il sistema anti-cheat di Fortnite Che si occupa di capire se un giocatore utilizza i trucchi o no Non capisce esattamente che voi state su un'altalena Quando ci salite sopra Ma vede voi che state volando in un posto dove non c'è un'altezza Perché l'altalena non viene considerata come un'altezza Come invece può essere considerato il tetto di una casa O il piano di una casa Vede semplicemente voi che volteggiate in aria Perché le altalene iniziano a muoversi Quindi voi vi muovete di conseguenza Insomma, secondo l'onda dell'altalena E pensa quindi che stiate imbrogliando perché state volando È una cosa un po' stupida Ed ecco una clip che mostra cosa non dovete fare Quindi non fatelo Perché infatti si vede come il tipo viene appunto bandito per questo Il gioco impazzisce e pensa che voi stiate volando Attenzione quindi la prossima volta che volete divertirvi sulle altalene con i vostri amici Potrete finire per non divertirvi più su questo gioco In questo video vi lascio con questa domanda Rispondete a questa domanda vi prego Voi giocate con le altalene Cioè vi sembra mai possibile che le altalene Altalene salire sulle altalene in Fortnite sia proibitissimo O verrete banditi perché pensano che state imbrogliando e state volando Boh Anche oggi ringraziamo la pura fibra italiana Ci troviamo qua Grazie per essere iscritti Siamo già in 8300 Cresciamo sempre di più Commentate con quello che ne pensate voi appunto Se pensavate che la altalena fosse super banditissima O che cosa ne pensavate O la roba dei V-Bucks Ve lo ricordo eh Andate all'inizio video che il contest è aperto E ripeto faremo le estrazioni sulla pagina di Instagram e o Telegram Di cui trovate comunque il link in descrizione E che altro Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao